Calendario Lavorare da casa è proprio comodo Sì, 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 pronto Porchi, mi servono quelle cifre, adesso! Subito, capo, ce le ho chiarissime qui in testa 24, 10 500 Voglio ripetere Oh, 24 Cosa? Oh, no, 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 il giardiniere Come dici? Solo un momento, capo Scusi, ma... Le le le, dispiacerebbe spagnare qualcosa per un paio di minuti Signore, sì, sì, signore Ehi! Lo spenga. Capo, lei rimanga in linea. Cercherò di sbrigare. Torno subito. Che cosa? Oh, sì, 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 sono ancora qui. Giusti i numeri. QQQ4 c'è, QQQ4 c'è. Mi, 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 di ancora qualche secondo, capo. Cosa? Ha, ha! Porche! Ho bisogno di quelle cifre! Mi, 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 scusi tanto, le, 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 assicuro che gliele comunicherò tra un minuto. Che cosa? Un minuto! Un minuto! Grazie a tutti.